Max Bologna è un'associazione sportiva di retta artistica che combatte le discriminazioni attraverso lo sport discriminazioni di genere, in base all'orientamento sessuale alla razza, al colore della pelle, alla religione e anche alla nonabilità In generale quando si gioca in campo non c'è nessun tipo di differenza nel senso che durante la partita vince semplicemente più forte indipendentemente da essere omosessuali o etrosessuali è successo invece che prima o dopo la partita siano state qualche frase che non è delle migliori quindi ragazzi andiamo a giocare contro i froci oppure cazzo ragazzi abbiamo perso contro i froci ebbene sì, spesso la gente perde contro i froci Allora sicuramente Balsi Bologna ha due finalità una la più immediata è quella di creare una casa per persone che non si sentono sicure del proprio essere in un ambiente più quotidiano quindi qua a Balsi Bologna puoi fare sport, giocare a calcio essendo te stesso, senza dover far finta di essere un'altra persona Balsi Bologna ha poi anche una seconda finalità che è quella prettamente sociale quindi di combattere l'omotransfobia attraverso lo sport che pensiamo sia un mezzo più facile per arrivare al grande pubblico e quindi di combattere l'omotransfobia tu sei sempre parte di mia squadra sempre parte della squadra tu sei sempre parte della squadra Yeah!